Chi mi conosce lo sa, lo sapete che io non sono anti-juventino, io non sono anti-juventino tifotoro ma penso che essere anti-juventini non voglio dire nulla, penso che essere anti-juventini sia il più grosso favore che si può fare alla Juve, il più grosso sgarbo soprattutto che si può fare a noi stessi detto ciò, la cosa che mi fa incazzare tantissimo è il fatto che nel calcio dovrebbero esserci delle regole ma poi alla fine non ci sono perché sono fondamentalmente sempre interpretate poi dagli arbitri queste figure che stanno in campo e che alla fine decidono secondo la loro discrezione cosa cazzo fare allora la questione è varia, Juventus-Boloz, anzi partiamo da Milan-Torino, Milan-Torino ribadisco partita rubata carissimi miei commentatori fenomeni, partita rubata per il semplice fatto che è stato dato un rigore il primo sull'1-1 per il Milan che secondo le regole attuali non c'è dal momento che le regole attuali, io non sono d'accordo con queste regole ribadisco perché per me ci sarebbe ma ci sono delle regole che dicono che se il braccio, se non è volontario eccetera ripeto, è un rigore inventato perché il difensore del Milan, anzi l'attaccante del Milan tira già l'ultimo la testa, buongiorno, è messo lì con le mani così sulla sua schiena e la palla finisce sulle mani, quindi non è rigore e quindi è partita rubata non me ne ha fottu'un cazzo poi se il toro è scarso e quindi non serve attaccarsi a queste cose io non è che mi attacco a queste cose, io dico che è un dato di fatto poi detto questo, quello che è accaduto poi in Juventus-Bologna, ma non perché la Juve ripeto è scandaloso, questa cosa è andata a tutti, è andata pure alla Domenica Sportiva quindi io faccio un plauso alla televisione in questo caso perché Bergonzi, Alberto Rimedio devo dire che sono stati molto onesti, una volta questa onestà non c'era nei confronti della Juventus forse perché una volta la Juventus aveva più potere, comunque con la grandissima onestà nel dire in maniera molto chiara e precisa e fuori dai denti il fatto che è scandaloso il fatto che non sia stato dato questo rigore qua per il Bologna adesso, questione VAR, io mi sono veramente altamente rotto i coglioni del fatto che si sia introdotto il VAR e poi in maniera assolutamente personale in base a regole che voi fate finta di capire dicendo ma è ovvio dai, non è andato a vedere il VAR perché comunque in base al fatto che se l'arbitro ha deciso allora il VAR non può intervenire ma che cazzo vuol dire? ma che cazzo vuol dire? il VAR deve intervenire sempre il VAR deve intervenire sempre nelle situazioni in area di rigore quantomeno deve intervenire sempre se no che cazzo l'abbiamo messo a fare? no perché secondo la regola il VAR non deve intervenire se l'arbitro ha già preso la decisione ma prima cosa, questa è una puttanata di base una puttanata di base perché il VAR l'avete messo per quello ovvero per fare in modo che si controlli, si vada poi a dare la soluzione giusta e corretta rispetto a una decisione sbagliata evidentemente dell'arbitro ma poi seconda cosa, chi è che decide che l'arbitro ha già deciso e allora non deve intervenire il VAR e chi invece decide che l'arbitro non ha deciso e allora può intervenire il VAR? io dico una cosa, questa cosa è scandalosa ma servirebbe fare un VAR per il VAR ovvero mettere una telecamera a quelli del VAR con un microfono annesso e vedere che cazzo si sono detti cosa si sono detti perché è inconcepibile questa cosa non si può nella stessa giornata dare un rigore che non c'è ad una squadra e non darne un altro senza nemmeno far sì che l'arbitro vada a vedere un rigore clamoroso ma non ha senso, ma non perché tifo Tori ce l'ho con la Juve è perché le situazioni sono Torino e Juve, non è per quello è una cosa scandalosa, questa cosa non la dico da adesso, questa cosa la dico da sempre questa cosa la dico da sempre, il calcio deve essere come gli scacchi se tu fai scaccomatto, però per qualche motivo l'arbitro degli scacchi non ha visto lo scaccomatto è dato da fatto che hai spostato l'alfiere in orizzontale tu vai a rivedere il VAR e vedi che hai fatto lo scaccomatto ma non vale punto cioè nel senso non è che mi puoi direi però l'arbitro non ha visto cosa è la prescrizione? ma cosa è la prescrizione? questa è una cosa assurda è una cosa che mi fa veramente incazzare cioè nel calcio non è possibile che gli arbitri questa categoria del cazzo debba decidere le sorti delle partite del campionato e delle squadre avete voluto mettere il VAR lo eseguite sempre io esigo sapere esigo sapere per quale cazzo di motivo i varisti di merda Juventus-Bologna non hanno fatto rivedere all'arbitro quell'azione ma voglio saperlo lo voglio sapere esigo saperlo ma per quale motivo sta casta di merda di arbitri non può rilasciare dichiarazioni perché non possono parlare semplicemente dire come giustamente ha detto a Dani anche Eraldo Pecci mi trovo ad andare concordo a questi personaggi ma l'ha detto devo ammetterlo la domenica è sportiva ho visto solo quel pezzo hanno detto che è scandaloso che comunque sia non ha senso che nel 2023 con il VAR che c'è ormai da anni non si sappiano neanche ancora bene le regole ovvero quando è che deve intervenire o meno ma questi arbitri devono rilasciare delle dichiarazioni è una roba calcissicamente parlando scandalosa questa scandalosa poi non mi vengono a dire i tifosi della Juve eh però sempre con noi ce l'avete ma porca puttana ma porca puttana in questo caso sì in questo caso sì perché uno deve pensare allora al fatto che veramente vi siete messi d'accordo con con gli arbitri in maniera proprio grezza e da VAR vi siete messi d'accordo con gli arbitri questa cosa mi fa incazzare perché poi mi rompete i coglioni a me sotto i commenti della partita perché ho messo il titolo partito rubata sì e basta con sta storia anche legata al fatto che ha comunque tu te la prendi con con gli episodi arbitrali sei ridicolo sei patetico avreste perso comunque il Milan è più forte ma questa cosa questa cosa la questa cosa cosa vuole questa donna cosa vuole questa donna non ho capito questa cosa la sappiamo questa cosa la sappiamo che il Milan era più forte ma non vuol dire un cazzo potrebbe neanche aver giocato contro il Manchester City ed essere il como il como di Verdi ma cosa vuol dire se tu comunque sia non mi dai un rigore che c'è e non mi dai e mi dai un rigore contro che non c'è non me ne hai fotto un cazzo la partita ha preso una svolta nel momento in cui non doveva prenderla perché ragazzi parliamoci chiaro il calcio è veramente strano e forse per questo che è bello ma chi lo sa ma chi lo sa se tu non mi devi quel rigore che non c'era su buongiorno che cosa poteva accadere chi lo sa cosa poteva accadere ragazzi chi lo sa eh chi lo sa poteva accadere di tutto poteva accadere di tutto poteva essere che Milan vinceva poteva anche essere che in realtà la sliding doors poteva far sì che il toro vincesse c'era pure un rigore per il toro forse non si può sapere quindi non mi rompete i coglioni ed evidentemente non sono l'unico ad aver notato questa criticità sul rigore dato a Milan nel primo tempo quindi non rompetemi il cazzo ma soprattutto non fate quelli che se la prendono con il toro e decidono che anche laddove c'è un torto non bisogna prendersela con chi ha procurato questo torto perché io in tutti i video me la prendo con il toro ma laddove c'è addirittura uno sgarbo contro i noi in tempi di varre dove mi vai a fare una sottigliezza perché buongiorno aveva quelle cazzo di sue mani eh beate sulla schiena di forza Girù e a un certo punto Girù ti possa abbassare di avere la palla sulle mani secondo i regolatori devi vedere quella cosa quel pinolo devi vedere quel pinolo dentro quel pesto e mi dà il rigore e poi il giorno dopo Ndoye viene buttato giù da junior di Dragon Ball e non me lo vai neanche rivedere mi sta sul cazzo sta cosa mi sta profondamente sul cazzo e dobbiamo stare qua noi muti tranquilli perché decide il VAR ma vaffanculo ma basta con sto VAR piuttosto basta VAR volete sapere la mia per quanto riguarda le regole per quanto riguarda la caccia di rigore in area di rigore per me dovrebbe essere sempre rigore quando la pallina è toccata con le mani sempre sempre punto omogenizzi uniformi fine e però poi i giocatori tentano di tirare la palla sulle mani dei giocatori ma questa è una puttanata e poi gli attaccanti tentano di tirare la palla sulla mano del difensore ragazzi voi sedete queste perché non avete mai giocato a calcio non è così non funziona così non è così non è così uniformiamo andiamo poi a incazzarci perché è un fallo di mano sfigato perché non voleva farlo non importa quando emani è sempre rigore e il VAR si vede sempre in tutti i casi quando c'è una situazione in area di rigore punto ma anche forse questo punto dieci minuti dopo si va a vedere fine se si facesse una cosa così sarebbe tutto più uniforme tutto più giusto ma non era questo lo scopo del VAR fatemi capire noia